e riviusi a sml ciao a tutti come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare i macarons partiamo subito smaccaron 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 andate prendete ogni tanto bevano un po' d'acqua perchè questi saranno un po' difficili da mangiare però è stato sostenibile macarons bene ragazzi cominciamo la prima che da tuve cominciare che colore però dai proviamo la prima cosa la prima cosa la prima cosa Sì, non è vero. Buon appetito. Sì, sì. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info è buonissimo e il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info poli shì bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti. Adesso andiamo a fare una pausa con il nostro book, il nostro contenitore book book book, quindi water book. Andiamo a fare una pausa con il nostro book. Sono bellissimi, faccio perfino fatica a mangiarli perché sono veramente carini. Andiamo a fare una pausa con il nostro book. Bellissima. Andiamo a fare una pausa. Andiamo a fare una pausa. Il gusto che hanno. Ma guardate quanto sono belli. Ce n'è uno che è a gusto. E' buonissimo. Abbiamo anche le campane che ci fanno compagnia adesso. L'altra volta il gatto. Adesso le campane. Siamo proprio perfetti. Buonissimo. 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 bene ragazzi siamo arrivati alla fine e vi saluto vi mando un abbraccio ci vediamo alla prossima ciao ciao